Ogni 20 secondi muore un bambino. Ogni 20 secondi deve suonare un campanello d'allarme. I bambini nelle comunità più povere del mondo rischiano di morire per malattie prevenibili con un vaccino. Per questo sto dando il 100% del mio sostegno a questa campagna, per permettere a tutti i bambini di essere vaccinati. Vuoi unirti a me? Dona ora. Sono convinta che insieme possiamo raggiungere ogni bambino e il tuo aiuto farà la differenza. Grazie.